Ci troviamo in Contrada Zimarino a Vasto e in questa strada disastrata abbiamo trovato una discarica di materiale altamente inquinante. Siamo con Paolo Leonzio, presidente dell'associazione EcoSchools Ambiente e Cultura, una delle tante discariche di questo territorio. Voi siete come dei segugi, andate cercando queste situazioni da bonificare. Sì, noi grazie ai tribunali che ci hanno dato questa fiducia di usare del personale qualificato e proprio sulla vigilanza ambientale e anche da parte delle varie associazioni che rappresento anche all'interno dell'Enea, voglio semplicemente dire ragazzi o chi è interessato o chi gestisce facciamolo veramente con serietà perché l'Abruzzo non lo merita e visto che io giro un po' tutta Italia, ho centinaia di volontari occasionali, però adesso basta, l'ho già detto, l'ho detto a Roma, l'ho scritto a Roma. Allora cosa avete trovato qui in questa discarica? Ma io come lei ben vede sono dei sacchi sigillati, dei sacchi grandi che c'è parte di Amiante e io mi occupo proprio dell'Amiante, mi hanno dato questo incarico e mi dispiace vedere questo, sto scempio diciamo, vogliamo collaborare un po' tutti quanti e lasciamo perdere gli interessi politici o anche denarosi. Ecco, oltre all'inciviltà che stiamo vedendo, che stiamo in qualche modo toccando con mano, quali interventi sono necessari? Più controlli, maggiore pulizia del territorio periodica? Sì, oltre che la maggior pulizia è quello di battersi su quelle discariche abusive, ingappucciate e non coperte, come previsto dalla legge, prendiamo esempio, vasto purtroppo ce ne ha due pericolosissime, che da noi fate le analisi. Quando piove, signori, chi si interessa di questo, sappiate che l'acqua va da sopra e penetra sotto, arriva, tutto quel famoso percolato, analizzatelo. Problemi per le falde acquifere potrebbero esserci. Le falde acquifere, quelle attraversano riserve e vanno direttamente in mare. Grazie per la visione!